Dove il Bari con la vittoria sul Messina per 2-1 riaggancia il Genova punti 48. I pugliesi di nuovo concentrati sono andati in vantaggio nel primo tempo con Maiellaro decimo gol in campionato e hanno poi robustito il Bortino con Perrone nella ripresa. Ma il capocannoniere del campionato Schillaci ha lasciato la sua impronta e per l'attaccante del Messina è il ventunesimo sigillo.